Ciao a tutti, io sono Denise e abito a Trieste e ho deciso di fare questo video perché ho letto su molti siti riguardanti i cani della prateria e i citelli che la gente aveva paura o si lamentava che prendere un citello significava avere un roditore cattivo, mordichioso, pericoloso a cui dover badare e ovviamente avere un po' d'ansia a prendere questo animale. Io vorrei sfatare questo mito perché i citelli sono animali meravigliosi, dolcissimi e non diventano assolutamente pericolosi se vengono trattati nel modo giusto. Quindi oggi vi mostro i miei due citelli, Isidoro e Rotgar e vi spiego come trasformarli in animali dolcissimi e coccolosi. venite con me. Questa è la loro stanza. La prima cosa che serve per far sentire un citello a casa sua non è assolutamente una gabbia, ma è una casetta diciamo, è uno spazio, una stanzina dove possono sentirsi liberi. Provate voi a immaginare di essere messi in prigione, non diventereste aggressivi, io credo di sì. Quindi adesso entriamo nella loro casa. Cerchiamo di... eh, eccoli qua. Questi qua sono Isidoro e Rotgar. Piano piano ragazzi. Dentro, dentro, dentro. Venite qua. Piano piano. Entriamo tutti quanti. Sì, 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 sì. Isidoro e Rotgar sono stati praticamente presi in due momenti diversi. Isidoro che è lui... sì, sei tu. Isidoro è stato preso da cucciolo e quindi è cresciuto con me. Rotgar che è lui, sì. Invece l'ho trovato dopo un anno di vita, già adulto, in condizioni pessime, con due costole rotte, la coda fratturata, l'insetto nasale spaccato e senza un ditino. Insomma, l'ho trovato in condizioni devastanti. E Rotgar era abbastanza aggressivo quando l'ho incontrato, ma come potete vedere è diventato un amore. Si fida di tutti. Una volta era inavvicinabile. Le persone non potevano stargli neanche a quattro metri di distanza che lui iniziava a gridare, iniziava ad avere attacchi e robe. Sì? Ok. Io mi siedo. Vieni, vieni. Allora, il primo punto è avere assolutamente uno spazio dove loro si possono sentire al sicuro. Questa è la prima cosa, perché così loro non si sentono catturati, non vanno in ansia. Seconda cosa, loro sono due maschi. Sono due maschi e non sono neanche della stessa famiglia, perché sono di due famiglie diverse. Quindi non è vero che i maschi non possono andare d'accordo. Possono. Ci sono momenti in cui magari uno è più geloso dell'altro e così. Però in realtà sono molto carini tra di loro. È curioso, eh? Isidoro. Isidoro un po' ha capito. Vieni, vieni qua. Eccolo qua. Questo è Isidoro. Questo è quello che è cresciuto con me. Adorano essere coccolati quando mangiano, ok? A differenza di cani e gatti. Loro sono molto, molto docili. Eh? Andai, bacino. Adesso finisce inagere. Rotgar ha avuto una storia veramente traumatizzante, perché è stato lasciato anche sotto zero in una gabbietta piccolissima e questo lo ha fatto diventare veramente diffidente nei confronti degli esseri umani. Quando l'ho trovato, ho dovuto per un mese entrare dentro la stanza a rallenti, camminando lentamente. Lui gridava come un pazzo, andava a nascondersi da dietro, ma piano piano iniziato a fidarsi. Piano piano lui si è avvicinato a me ed è quello che vi consiglio di fare. Non prendete l'imbraccio, non fate che loro si sentano costretti a essere coccolati da voi. All'inizio loro hanno bisogno di sentirsi liberi, ok? Quindi state fermi, seduti, qualche pezzettino di cibo aiuta, ok? E come si vede qua, il pazzo, eccolo qua, loro si avvicinano per mangiare, ok? Sono loro poi che nel giro di un mese verranno tranquillamente in braccio da soli, senza che voi facciate niente. Io ormai ho questa tasca qua perché loro si infilano e stanno con me anche per tanto tempo, loro adorano il contatto, anche senza cibo, adesso glielo do per fare il video. Un'altra cosa importante, loro sono molto curiosi, sono animali che si annoiano, hanno bisogno di giocare, quindi tanti giochi, tanti momenti in cui loro possono da soli entrare, girare. Là dietro per esempio ho messo dei tubi, ho messo la lortana che si sono costruiti da soli, il terrario, il terrario, qua sulla finestra per loro è possibile camminare, andare a vedere fuori e qui hanno scelto loro di costruirsi la proprietà, non ho fatto niente io. Ogni stagione loro cambiano, una volta vanno nel terrario, una volta vanno qui, una volta dentro la casetta di legno quando fa più caldo. insomma hanno piena libertà, piena libertà. Gli do da mangiare verdure sane, ogni giorno insalata, cavolo, carote, sedano, cetriolo, ogni tanto un pomodoro, una volta ogni tanto una fettina di mena, però anche ogni tanto due croccantini, vero? Un pochino di questo, sì ci piace questo, no? Loro sono, hanno fatto un nido insieme, pur essendo due maschi, non si attaccano mai, sono assolutamente socievoli con tutte le persone che entrano qua, tutti, non hanno problemi per niente, non mordono, la notte vanno a dormire alle dieci e fino alle nove, dieci di mattina, dodici ore loro dormono senza fare rumore, ok? Vieni, vieni, vieni. momento del pranzo. Se dovete prenderli in braccio, non prendeteli così, per loro è una sofferenza, anche per la cassa toracica, dovete prenderli qua dietro, come li prendeva la loro mamma, questo, vedete la coda? Non li fa sentire in pericolo, non gonfiano la coda, ok? Non si sentono maltrattati, dietro non hanno sensore, non hanno la sensibilità di sofferenza di dover essere presi per la collottola, quindi fatelo tranquillamente, meglio quello piuttosto che prenderli e schiacciarli lo stomaco o i polvoni. Il buon cibo è fondamentale, perché se loro non hanno cibo fresco ogni giorno, fieno e altre cose che a loro serve, soffrono, soffrono, vi fa male la pancia, in più non possono vomitare per natura, quindi è importante che abbiano comunque cibo ogni giorno fresco, almeno due volte al giorno, acqua fresca e i gabinetti. Ora i gabinetti sono questi, ve ne potete mettere due o tre dove loro preferiscono, devo ammettere che rotka a mandare a far pipì là e si trovano là dentro, quindi hanno anche dei gusti particolari sulla toilette. Per il resto sono veramente carini, loro non hanno grande, diciamo, non danno motivo di stress, non hanno bisogno di grande manutenzione, hanno bisogno di essere coccolati, tanto, hanno tanto bisogno di coccole, loro stessi salgono da soli, io non faccio niente, loro amano stare in braccio, amano restare là, farsi coccolare. Quando uno li ha abituati da soli, uno si mette seduto, semplicemente seduto e aspetta, aspetta che loro nel giro di due settimane, un mese, piano piano, si fidino a salire, dopo loro si tranquillizzano e diventano coccolosi da soli, quindi non serve stressarli tanto, non serve, vieni, vieni, vedi? Lui sale tranquillo, sono tutti e due liberi di poter stare dove vogliono, di poter andare dove vogliono e quindi loro si fanno coccolare, non hanno bisogno che io li corra dietro per tutta la casa. Ovviamente li lascio andare in giro per la casa, ma solo quando ci sono io, perché ho paura che mordano i fili o si facciano del male. Ecco, i citelli non sono cattivi, siamo noi che li trasformiamo in buoni o cattivi, mettendoli in gabbia, trattandoli male, prendendoli violentamente, gridando. Se noi non facciamo queste cose, loro sono tranquillamente un animale meraviglioso per la nostra compagnia. Sono adatti per tutti, magari i bambini piccoli, piccoli no, perché magari potrebbero essere troppo impulsivi nei loro confronti, allora il lavoro di addestramento, domesticamento non andrebbe a buon fine. Però in generale non ho mai visto un citello cattivo, se viene trattato bene. Ciao a tutti, per qualsiasi domanda sono qui. Un saluto da Isidora, Rotka e Denise. Ciao ciao!